materazzi è caduto, ha preso la testata, la testata gliela ha dato, tornella maison, tornella maison francia, tornate a casa, tornate a casa, c'è possono passare pure 10.000 anni, a casa, a casa, questa l'Italia che noi vogliamo vedere, grandissimi ragazzi, grandissimi, 3 a 1 tra Francia e Italia, prima giornata della Nations League, come ben sapete il campionato si è fermato per dare spazio alle nazionali, alla Nations League, l'Italia porta i primi tre punti nel girone, superando la Francia, invece perde la sua prima sconfitta, la prima partita del girone. Allora, la partita inizia dopo 20 secondi dal gol di Barcolà, del giocatore del Paris Saint Germain, però si è visto l'errore di Di Lorenzo, è stupito la gente a lamentarsi, ma cosa ci fa Di Lorenzo in nazionale? Abbiamo visto l'errore fatto da commessa di Lorenzo, però un errore così, non si può proprio commettere, però segna il gol dell'1 a 0, che porta in vantaggio la Francia, però ho notato una piccola cosa, e quale sarebbe? Perché la Francia ha giocato con le riserve, con le riserve ha giocato, cioè non ho visto entrare di giocatori come Turam, Zubito, Sban, poi Celsi, questi giocatori qua, Celsi, solo riserve, riserve. L'Italia, ragazzi, mi è piaciuta molto sia come ha reagito nel primo tempo, finalmente però nella formazione possiamo rivedere giocatori come Sandro Tonali, che ricordiamoci che Sandro Tonali è stato squalificato per 10 mesi per via di cose illegali, nel senso di scommessi, di calcio scommesso, e poi la vicenda di calcio scommesso è che ha scosso tutto, diciamo, il mondo del calcio. Tonali torna 10 mesi dopo il nazionale e fa una grandissima prestazione Sandro Tonali, devo dire, che sono i miei in campo, uno dei peggiori, mamma mia, non vuole il po' per elencare proprio, è Lorenzo Pellegrini, mamma mia, c'è, ancora una, ce ne siamo imparati niente dalla partita contro la Svizzera, c'è, che mamma Pellegrini in campo non si può vedere, mamma Pellegrini, un super Gigio Donnarumma, c'è in grandissima Italia che è stata, il Reteghi, si è mangiato anche il gol, il possibile gol che poteva avrebbe portato l'Italia in parità, mamma mia, Reteghi, quando vieni in campo, Reteghi, mamma mia, mi viene proprio, volta a stomaco, nel senso che, Reteghi, con l'Atalanta ti fa tutti questi gol, invece il nazionale se li mangi, mamma mia, una cosa che non capiremo mai, segna il gol della parità, Di Marco con l'assist di Tonali, un superassi fatto da Tonali, Di Marco la mette dentro, porta l'Italia alla parità e fa una soluzione che non, questa soluzione che non sa, sconvolta, che non sa manco come segnato, segna poi il gol del 2 a 1 nel portale d'Italia in vantaggio, Frattesi che segna il gol del 2 a 1 e poi l'ultimo gol segna Giacomino Raspadori che chiude la partita e finalmente Raspadori torna a segnare con la nazionale in chissà quanto tempo e fa una, però è una grandissima prestazione, abbiamo visto una grandissima Italia, cioè giocarsela e veramente senza, una bellissima Italia che comincia bene il suo percorso in Nations League, Spalletti prima nella conferenza stampa l'aveva detto che aveva analizzato gli errori che avevamo commesso durante gli europei, questi europei che veramente abbiamo visto in Italia imbarazzante e soprattutto dai convocati ragazzi che abbiamo visto più ragazzi che diciamo gente di esperienza, ma questo è così bisogna ripartire, però i convocati sono questi, quindi che noi che ci possiamo fare, e la Francia di Didier Deschamps devo dire che è stata poco timida, solo con quello di iniziato, un bambino che non si è visto, manca tutta la partita, manca faccio i bambini, cioè, dopo questa partita veramente i francesi sanno vendere i baguette, andate a vendere i baguette, i baguette, mamma mia, abbiamo raggiato i baguette, mamma mia, che bella cosa ragazzi, cioè possono passare alcuni decimila anni ma, ma che godura battere i francesi, sembra di essere tornati nel 2006, nei mondiali del 2006, proprio mamma mia, veramente una costima prestazione fatta da l'Italia di Spalletti, che veramente abbia giocato a bisaverto, l'Italia deve continuare su questa strada per continuare a vincere, però questi errori qua, fatto da di Lorenzo non ci devono stare, quindi, perché lì veramente rischiava veramente di perdere la partita, però l'Italia devo dire che si è concentrata moltissimo, concedendo poco, però la Francia ce l'abbiamo ancora parecchio, più da torcere. E il Donnarumma, mamma mia del portiere, anno fa proprio Santa Donnarumma, proprio quelle parate che si è fidato di fare contro la francese. Magnano, mamma mia, bello, grande partiere Magnano, cioè tre gol così, e proprio veramente, ma dopo questa partita, quando riguarda la sponda francese, hanno bisogno di più di riguardarsi un po', e secondo me, ragazzi, cioè non è la prima volta che la Francia gioca così, e a parer mio, giocando così, penso che Didier Deschamps cominciò un po' a traballare, ma è solo la mia intuizione questa. L'Italia, ho visto una grandissima età del giocare, cioè, veramente così da tanto tempo, e veramente qua, veramente, siccome il prossimo di partenza ci aspettavamo poco di perdere con i francesi. E la prossima, ragazzi, se la prossima, contro l'Israele, sarà l'ultima partita di questa, diciamo, di Nations League, e quindi cercheremo di chiudere almeno questo giro nazionale, partendo altri punti fondamentali. Quindi, però, questa è l'Italia giusta, che è l'Italia delle spalletti, durante gli europei molti a criticare sia spalletti che le sue scelte, cioè per almeno convocati più sensati, rispetto a gente come Fagioli, mamma, Fagioli. questi quanti meritano proprio di essere proprio convocati, cioè, Fagioli, mamma, Fagioli, ragazzi, che dire, questo è tutto. Questo è tutto. Questo è tutto. Bene. Ciao.